Previsto l'arrivo di nuovi profughi proprio qui in quartiere San Vito, lei ne sapeva nulla? Sì, avevo sentito parlare di questo argomento. Come lo commenta? Non saprei, diciamo siamo tanti, ci vorrebbe lavoro anche per noi, se arrivano anche loro, non so, noi rimaniamo un po' più in panico, perché se vai da qualche parte ti dicono ma sei italiano, non possiamo darti lavoro, prima dobbiamo darlo a loro, per loro sì, per noi no. Avete sentito che è possibile l'arrivo di nuovi profughi proprio nella zona di San Vito? Ho visto il vostro telegiornale ieri sera, non saprei dirle dove sono. Senta, lei è preoccupata? Beh, tanto anche. Oddio, preoccupata, bisogna accogliere però in famiglia sai, è un po' fatica accogliere in famiglia, c'è un appartamento, magari sono abbastanza autonomi, non so. Penso che sia più giusto prima aiutare gli italiani e le famiglie in disagio, che ce ne sono tante, e dopo aiutare gli altri, però sono preoccupata sì, perché ci sono brave persone e ci sono non brave persone. Ma è strano che nessuno sapesse nulla. A cominciare dall'amministrazione. Questo è grave, perché almeno avvertire i responsabili, anche perché arrivano e poi? E poi dove vanno? Senta, voi residenti siete preoccupati? Sì, insomma, preoccupate nel senso che sono un po' sbandati anche loro, poveretti. Mi dispiace anche per loro, però se vengono gestiti in modo adeguato forse era meglio. Comunque speriamo bene.